Una telefonata alla Guardia Costiera di Otranto ha messo in moto una straordinaria rete di ricerche in mare che ha portato all'individuazione a 22 miglia dalla costa di 16 migranti e che è poi proseguita sulle tracce di un'altra imbarcazione. L'uomo che ha allertato la Guardia Costiera ha detto che suo cugino, un diportista che navigava diretto in Grecia, lo aveva avvisato di aver incontrato in mare aperto una barca in difficoltà con otto persone a bordo. Avevano bisogno di un po' di benzina, lui gliel'ha data e poi ha proseguito per la sua rotta. Insospettiti gli uomini della Guardia Costiera coordinati dal comandante, il tenente di Vascello Francesco Amato, hanno raggiunto in mare aperto il luogo che le coordinate indicavano e poco lontano hanno individuato un'imbarcazione lunga 5 metri con a bordo non 8 ma 16 persone. Erano migranti di lingua francese quindi con ogni probabilità salpati dal nord Africa. Ma stando al loro racconto non sarebbero stati loro a chiedere benzina al diportista italiano incontrato sulla rotta. Soccorsi e trasportati a riva sono stati accompagnati nel centro Don Tonino Bello dove ora si prendono cura di loro i volontari della misericordia. Ma le ricerche a largo sono proseguite per ore per individuare l'altra imbarcazione se effettivamente esiste. Per questo la Guardia Costiera è stata in mare con tre motovedette a bordo delle quali c'erano anche due paramedici della Croce Rossa impegnato anche un elicottero della Guardia di Finanza.